Allora, questo mi pare prezzo di no, oddio, il gambo è morto, finalmente comunque un fungo degno di tale nome, giramelo un momento per favore, rinvenuto, che vuol dire trovato, ai castagni, in un boscascio di castagni tagliati, eccetera, eccetera. Molto buono da friggere, molto buono da friggere, è essenziale per essere fritto.